Eccomi! Siete pronti Giucas? Dimmi! Siamo pronti! Allora, è il momento del nuovo esperimento! È un esperimento storico che ho fatto anche a te, mia cara Alessia. Me lo ricordo! Io tenterò di addolmentarti. Te lo ricordi? Certo! Io tenterò di portarti in ipinosi profonda e mandarti in catalessi. Vado in catalessi? In catalessi? Sì! Guarda, ci sono andata anche io in catalessi allora quando mi fece l'esperimento Giucas, poi non mi sono ricordata più. Ma sei tornata Alessia, subito poi! Sono ancora lì lì, Francia, anche io. Allora, mi raccomando, ho bisogno della tua collaborazione. Tu sei molto recettiva, abbiamo superato l'elicottero. Questo è ancora più profondo come esperimento e non sarai cosciente. Va bene? Tipo l'anestesia? No, 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 no. Ah! Ti prego, ti prego. Ok. Ho bisogno della tua collaborazione, va bene? Sì. Allora, guardami e ascoltami attentamente per piacere. Mauri, detto di te c'è Mauri. Metti la mano così, così si sente proprio... Non perde l'equilibrio, mi raccomando, va bene? Sì. Allora, guardami e ascoltami attentamente per piacere. 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 Grazie a tutti.